Bella ragazzi, io sono il Gunner, nuovo episodio di Carriera Giocatore Romo rimasti che hanno finito le amichevoli e adesso si iniziava a fare sul serio Quindi premiamo subito il tasto avanza, vediamo se vengo ceduto, se vengo prestato, se vengo mandato da qualche parte Perfetto, sono nella squadra titolare Allora, cambio solo una cosa nell'impostazione, metto 5 minuti, così a meno Perché la serie B so che mi hanno detto che è lunga Quindi vediamo di non prolungarla troppo Ok, ci siamo, finalmente si fa sul serio, Team Cup, stadio Oggi Uomo, stadio di casa del Verona È iniziata, finalmente si fa sul serio, Coppa Italia, non deludiamo i nostri tifosi Arbitro però, levati quando ci sono i miei Dai, buon, no, dai Ubaliela Ma siete in 25? Ma non ci credo Ma dai, ma svegliatevi, ma arrivate in 10 lì Ah, che schifo Oh, un intervento come se Dio comanda Anche se non è servito niente, però almeno Fate vedere che ci siete Così va presa la palla, hai visto? Così va presa Ottimo, dai Qualcuno, qualcuno Buono in fascia, sì Ottimo Qui ancora Belli, peccato Una bella azione comunque, una bella azione Verona che barcelloneggia Ottimo E in mezzo a 27 sono Però va, però va Pravettoni Però va E si è gol, pareggio Pareggio Pravettoni come Messi Mitico Uno a uno Pareggio Finalizzazione più uno In mezzo a tantissimi Perché nessuno dei miei mi dava una mano Perché siamo a una punta Se l'allenatore mettessi due punte Come schema non sarebbe male Va bene, uno a uno ragazzi Quindi abbiamo tempo uno a uno Un gol strepitoso In mezzo a 4-5 avversari Non mi ricordo neanche Quanti erano, ma Veramente sorprendente Sotto Cazzarola Sotto, sotto Dai che non può passare in mezzo Tutt'a sta gente, però Pallo, arbitro Criminale Lo vedo, lo vedo Vai, vai, vai Subito vai, vai No, non così Non così larga Eh, doveva darmela più in centro Ok, adesso un attimo di calma Che è già abbastanza stanco il mio Sono da solo contro 3 E Vai, vai, vai Prima 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 Prima, cazzo Prima C'è troppa gente C'è troppa gente Sì Sì No Palo, cazzo Palo, palo, palo Palo, palo, palo Palo, palo, palo Palo, palo, palo Palo, cazzo Palo Vai, stacco imperioso Oh, 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 oh Nooo, eravamo lì Corduto No, supplementari Che palle Eravamo già lì a far gol Quasi Sono stanco morto Il mio giocatore non ce la fa più Ma si può fare ancora Cioè, almeno gli ultimi scatti disponibili li utilizziamo lì Nooo Nooo Che culo Che culo Che culo Ragazzi, che culo No, no Non è meritato sto gol Non è assolutamente meritato Dai Ancora Ottimo Ottimo No, ma sei una merda Provettoni Sei una merda Era facile questa però La piazzare Anche se sei destro Peccato perché Ci ho creduto un attimo Alla Coppa Italia Ci ho creduto veramente tanto Ma mi ha tolto Ah Ok Mi ha tolto Bene No, direi di simularlo Perché tanto No, vabbè Non so Simulo o guardo Eh, dai, guardiamo Magari Magari si vede qualcosa di bello Ritorno al centrocampo a Musacci Musacci per Colì Colì avanza Colì ne ha vicino a tre quarti Colì 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 che gli ha dà D'Alessandro D'Alessandro Crosse in mezzo Ma in fuori gioco Come sospettavo Bello stop di Liviero Liviero Per Milesi Metà campo Tutto la propatria su Musacci 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 Per Di Roberto Di Roberto allarga per Ferri 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 Vorrebbe far qualcosa ma è chiuso Ferri Ferri Fai qualcosa Ferri Cazzo Ferri Ferri Cosa fai Ferri La butta in mezzo A caso Non c'è nessuno Ultim fuori gioco Vabbè Cosenza Metà campo Cosenza Lancio lungo per Per Di Roberto Di Roberto Di Roberto non è in fuori gioco Ma stoppa malissimo La tiene Di Roberto Di Roberto Di Roberto Grandissimo Di Roberto Perché torna indietro Di Roberto Ere lì e poi devi crossarla Di Roberto Ancora Madonna ma buttala in mezzo È ancora in fuori gioco Colì in fuori gioco Eeeh Vabbè È ormai 120esimo Tempo scaduto Verona vince Verona passa Meglio così Meglio così Almeno ci possiamo concentrare sul campionato E tentare la promozione È finita 2-1 per il Verona Bella partita Faticosa Ma Sentita Molto sentita Sarà difficile che la squadra Vabbè c'è che posso lasciare il segno Che cosa Che cosa hai detto Bene Si comincia ufficialmente Con la serie B Contro il Livorno Che è la più forte Teoricamente Insieme al Bologna E altre squadre Ok Però Ok Ottima Dai Pravettoni Si va bene Oh Grazie Arbitro Grazie Mi hanno trattenuto in 27 Il problema è batterla Non è facile far gol Eeeh Ma va che tiro Mamma mia Come tira male le punizioni Ragazzi Brividi E sono quello che le tira meglio Mi sa perché Se me le fa battere a me Ok Fine primo tempo 0-0 Meno male che a me Non abbiamo subito il gol Il solito gol all'inizio Eeeh Gran merda Più che gran tiro Non ho caricato molto Però eh No Non fatelo crossare Non fatelo crossare Non fatelo crossare Eh non fa la uscita Bella Eh no Sono in fuorigioco adesso Eh prima 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 Ma no Ma Giocala Giocala Lo schema Non va bene Non mi piace Cioè Sono troppo isolato Là davanti Devo dire Si può contestare Lo schema No Cioè 4-1-2-1-2 Almeno c'è un po' Di gioco Lì in mezzo Vuoi difeso Oltranza Ma sei scemo Cioè no Ha messo difeso Oltranza Non ci credo Dai No Non ci credo Al novantesimo Sei una merda Veramente Sei un allenatore Di merda Non devi mettere Difeso Oltranza Cioè Non è che stiamo Giocando alla UEFA Champions League Dai Ma che cazzo Di merda Dai E fallo Ma è fallo Cazzo Alzati Coglione Ma vaffanculo Va Già infortunata Sta merda Di giocatore E Si muro Perché non voglio Guardare Guarda Dopo questa Non voglio neanche Vedere Lo schifo Che ha fatto L'allenatore Cos'è adesso Vediamo Adesso Sarò fuori Un mese Magari Tre mesi Tre mesi Di infortunio Non ci credo Ma sono scemi A mettere così Tanto di infortunio Ma sono matti Allora qua è finita Eh No Aspetta Cioè abbiamo Perso 4 a 0 Al novantesimo No Una domanda Facciamo così ragazzi Fatemi sapere Nei commenti Sia una roba Fattibile sta cosa Perché non possiamo Avere perso 4 a 0 Se perdevamo 1 a 0 Ed era finita La partita Quindi la vedo Un po' Difficile sta cosa Vabbè Qua allora Cosa succede Adesso Devo giocare Non devo giocare Non riesco a capire Passiamo davanti A DMC Definitive Edition Per Playstation 4 Gioco sviluppato Da Capcom È uscito Il 15 gennaio 2013 dicimolo